Tu non sai chi sono io, tu non sai chi sono io, sarò io! Benvenuti in questo episodio della Luke in Hardcore! Mi ero semplicemente nascosto, dai, non mi avevi mica riconosciuto, ma dai! Perché Luke è Luke, 43 semplici! Con lo sguardo rivolto verso la zona dove sorge il sole e rientro in casa! Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti e ritornati in Luke in Hardcore! Come state ragazzi? Intanto, prima cosa, possiamo togliere lo scudo dalle mani? Mi hanno detto che con la F possiamo a... No! Questa parte di silenzio è col cazzo che me la taglio! Mi sono rimasti tre cuori, mi ha distrutto casa, da dove cazzo è uscito quel creeper? Dai! È tutto per giocare, perché con la F in poche parole ti scambia le mani, bello, figo! Però mi è costato sette cuori per dire sta cosa! Potevo tranquillamente dirlo in casa con calma, magari risparmiare tutti i cuori, magari non far esplodere mezza casa! Fanculo a chi mi ha detto nei commenti! Luke, con la F, interscambi le cose nelle mani, minghie, faccela vedere! Eccala! Mi è costata sette cuori! Affanculo! E mo? Beh, perlomeno la casa è salva, dai! Cuor che vede, cuor che non... Come che era? Quando il cuore non vede, il cuore non duole! No, cuor che... Que... Che... Vabbè! Poi esci e dici, un po' da track! Però finché sei in casa, cuor che... Occhio che vede, che non vede, cuor che non duole! È una cosa del genere, comunque! Benvenuti, ragazzi, in questo nuovo episodio di merda! Cosa facciamo oggi? Abbiamo bisogno di... Carboni, ossidiana, assi di legno, stick! Facciamo delle torce e un acciarino! Prima di tutto, ragazzi, con grande felpezza, andiamo a raccogliere questo bellissimo ramoscello di alberi! Il ramoscello è proprio il gergo tecnico che mi impararono a scuola quando andavo, figuratevi, alle superiori! Ero alle superiori... Le superiori le ho fatte, in poche parole, perché ragazzi, in poche parole ho superato, si chiamano superiori, perché tu superi una fase! Mentre gli elementari, per esempio, è perché tu ti insegnano degli elementi fondamentali per sopravvivere e vivere! Nel mondo normale ti insegnano la matematica, la religione, la fisica, tutto ciò che ti serve poi per... Tutti gli elementi necessari, ecco, elementari, le superiori... Poi, però, non credo che gli elementari ti insegnano come perdere un altro cazzo di cuore nella serie hardcore di Minecraft! Mi spiegate come cacchio rientro in casa da qua? Porca di quella boiaccia, porca! Dovrei illuminare di più fuori, è per quello che è sorto questo creeper! Ma vaffanciulo! Torce, torce, torce! Torcia qua, torcia là, torcia qua, torcia là, qua, là, qua, qua, là, là, qua, una qua, una là, una lì, una là, una qua! Là non si può! Eh, c'è l'acqua! Una là! Grazie alla legna raccolta, ragazzi, facciamo dei cartelli e oggi ci trasformiamo in preti! Perché in preti? Sì, ragazzi, oggi andrò a fare una benedizione! Vedete quella collina da sopra? Bene! La benedirò! La benedì! La, la, che bene, la battezzo! Ma che cazzo sto dicendo? Devo fare un battesimo! Non una benedizione! Questa valle incantata la battezzerò in la valle dell'ammoniaca! In realtà la frase giusta sarebbe la valle demoniaca! Ma mi è venuta in mente questa cosa dell'ammoniaca! Che figata, amici! Nei terzimi qua sulla valle! Togliamo questi piccoli ramoscelli! È giusto per appiattire la zona, eh, nulla di che! Visto e considerato che sta arrivando la notte, finiremo la, 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 la processione del battesimo dopo! La processione, vabbè, quella cosa lì del battesimo dopo, eh, che ne dite? Corriamo a casa a fare la nanna? Visto che ci sono rimasti solamente due cuoricini? E rieccovi tornato sulla valle dell'ammoniaca! E ho già programmato qua il posto dove fare il battesimo! Ragazzi, faremo una sorta di, eh, di rito, eh! Di rito che poi sarebbe la moglie di Rita! Cioè il marito di Rita! Perché rito e Rita una volta si sposarono! Mettiamo due blocchi di ossidiana! Altri tre in altezza! Anche dall'altra parte! Gli ultimi due in cima! Questo, ragazzi, è la porta! La grande porta che ci porterà all'inferno! Ebbè, se la porta non porta, che cazzo porta? Grazie a un famoso acciarino! Clic destro! Attiviamo! Col cazzo che ci entro! Mi sono rimasti due cuori, ma là dentro non vado ad entrare! Tu sei malato di testa se pensi che io entro là dentro con due cuori! Eh, prima in cerca di oro! Uga, 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 uga! Prima di entrare l'oro tu ma dà! Uga, 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 uga! Prima di entrare l'oro tu ma dà! Uga, 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 uga! Prima di entrare l'oro tu ma dà! Mi hanno detto che intorno dall'altezza 20 all'altezza 40 potrei trovare l'oro! Proviamoci! Scaverò un lungo cunicolo che ci condurrà, speriamo, verso la salvezza! Bisogna trovare un sacco di oro, ragazzi! Un sacco di oro, dopodiché un sacco di mele! Dopo le mele fare le mele d'oro! Dopo aver fatto le mele d'oro! Vabbè, vedi che avete capito, cioè, ci serve oro e mele! Uh, ho visto acqua! Uh, ho visto... Uh, l'acqua mi sta trasportando! Cioè, che figata, sono finito nell'oceano! Cioè, che, 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 ci vuole proprio una, una fortuna, ragazzi, proprio... Cioè, l'unico cunicolo a livello 40 che ho scavato, sono finito dentro l'oceano! Scaviamo dall'altra parte! Ferro! Beh, già siamo a buon punto! Ehi, ma aspetta! No! Ho trovato una caverna! No! A parte di essere pericolosa, potrebbe essere la nostra salvezza! Il problema è poi... Mi ricordo come tornare a casa! Raccolgo del carbone per potermi fare delle torce! Qui la sopravvivenza si fa sempre più difficile! A volte, mi sembra di leggere un libro della signora in giallo! Pieno di misteri, pieno di crimini! Se lo ribasco a due cuori, altro che criminalità che c'è in questo mondolo! Grazie del carbone, Luke, si fa altre torce! La lava brucia! Brucia! E se la lava brucia, bruci sì! Perché se mi brucio io, so crepato! Un pipistrello a testa in giù! Questo potrebbe essere un significato, ragazzi! Perché qui potrebbero esserci altri mob! Anche se il pipistrello stava gentilmente dormendo, ho molta paura dell'erba in caverna! La storia si fa sempre più interessante! Raccolgo altro carbone per non perdere la paura e per prendere altra esperienza! La nostra unica fonte di ricerca è l'oro! Ma neanche i lapiscazzoli sarebbero male in questo momento! Altro carbone! Ma lo riprendo dopo, perché voglio cercare prima l'oro! No, 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 no! Eccolo lì, un ragno! Beh, un ragno è molto interessante! Se io riuscissi a picchiare quel ragno, mi potrebbe droppare del filo! E il filo sarebbe molto interessante per farci, che ne so, un arco! Ragazzi, chi non risica non rosica! Io vado a killarlo! Molto importante è mettere prima una fonte di luce nelle vicinanze e guardarsi sempre alle spalle! Bisogna avere le spalle coperte! Questo ragno non dovrebbe essere difficile da ammazzare, ma sento altri passi! Ecco qua, è caduto! Si è buttato giù uno zombie, da rumore uno zombie, per cui ho paura! Ho fottutamente paura! È caduto qua sotto o dietro? Ha questo ragno... Eccolo qua, eccolo! Porca bocca! Porca bocca! Porca trota! Porca trota! Picchino, picchino! Mi hanno detto di picchiare un colpo alla volta! Aspettare che la spada si ricarichi e così che sto facendo! Nice! Combattimento EU Forever Beast in the World of the Moon! E ora tocca a ragno fare la stessa fine! Mi ha droppato anche le bistecche marce! Lo dice la parola stessa, marce! Ehi ragno! Che è questo rumore? Miso, c'ho paura! Andiamo se è il ragno... È la soppa che c'è gente! Eccolo il ragno! Madonna! Mi è saltato addosso il ragno! Morto! Del filo! Fantastico del filo! Mi servirebbe un altro cacchio di stringa per fare un arco! No, me ne servono tre! Eccolo! Un altro zombie! Ragazzi, io sto rischiando con due cuori nella serie in ultra hardcore! Lo ricordiamo? Un colpo gli è arrivato! Bella anche sta cosa che ci sono l'effetto visivo... Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Porca di quella... P***a... P***a... Troia... Co' la lurida... Impestata... Latrina... Con le mutande viola... P***a... Ma vaffancula... Vaffanculo! Vaffanculo cazzo! Porca tro... P***a... Cazzo! Ebbene sì Sono semplice Un semplice fantasma Sto semplicemente Spettando La mia partita Ragazzi questa missione In ultra hardcore È stata davvero difficile Mi stavo quasi affezionando Mi stavo quasi appassionando E grazie Per colpa Poi tutta colpa Di questo creeper Questo creeper Che esplose laggiù Inizio episodio Che mi tolse Quei famosi Tanti cuori Fino a poi morire Contro uno zombie Ragazzi mi raccomando Se volete l'inizio Di una nuova serie Identica a questa Perché davvero mi piace Mi raccomando Cerchiamo di arrivare a 10.000 like In questo video E ne comincio una Al volo Affanculo Grazie a tutti Grazie a tutti